Dottor Scala, in questa stanza abbiamo raccontato momenti davvero difficili, complicati, come la bolla Covid, come quel periodo che ormai speriamo di esserci lasciati alle spalle. Ma la fotografia che si scatta oggi per i casi che comunque ancora ci sono, ma anche per le tante influenze che magari non vengono neanche investigate da questo punto di vista, qual è? Sicuramente la situazione, riguardandoci indietro, ricordando poi le interviste fatte in questa stanza, in quegli anni drammatici, è completamente ribaltata, pur essendo ancora segnalati, avendo noi anche ricoverati di pazienti con positività per il Covid, sia le modifiche delle caratteristiche del virus, sia soprattutto l'estensa campagna vaccinale, la rendono certamente una infezione che non va sottovalutata, principalmente con interessamento polmonare e con polmonite, ma che va particolarmente attenzionata a quelle persone fragili. Il Covid, così come può essere una polmonite da un altro agente infettivo, agenti opportunistici, possono mettere in grande difficoltà respiratoria queste persone, quindi a volte anche purtroppo portare al decesso, e sottolineava anche il ruolo dell'influenza degli altri virus. E' verissimo, noi abbiamo avuto veramente questo inverno prolungato, una epidemia molto aggressiva di virus influenzali, virus respiratori o sinciziali, anche il Covid combinato, e anche in soggetti senza comorbidità, abbiamo avuto gravi quadri di polmonite, di insufficienza respiratoria, e anche purtroppo qualche caso non siamo riusciti a tirarlo fuori. Quindi il messaggio che può venire fuori è quello dalla lezione del Covid, di mantenere sempre a livello generale, quindi un livello di attenzione sia a livello sanitario che a livello sociale, e nelle condizioni di rischio. Ecco, l'uso del dispositivo, nelle situazioni appunto, dispositivi di protezione individuale, non va mai dimenticato, soprattutto se ci troviamo di fronte o ci interfacciamo o siamo persone fragili, quindi a rischio di poter sviluppare complicanze gravi da infezioni Covid correlate o da altre infezioni come influenza o altri tipi di agenti patogeni.